Riesplode la guerra di Camorra a Scampia. Un pregiudicato di 31 anni, Fabio Bartolo, è stato ucciso a colpi di pistola in via Ghisleri, nei pressi dell'8SC1. I killer, probabilmente due, hanno scaricato sull'uomo un intero caricatore, almeno 15 bossoli di proiettili trovati a terra dalle forze dell'ordine intervenute. Secondo una prima ricostruzione della polizia che indaga sull'omicidio, il delitto dovrebbe essere riconducibile a un regolamento tra opposti clan criminali che si contendono il territorio. Bartolo, napoletano e residente in via Fratelli Cervi a Scampia, aveva precedenti per spaccio di stupefacenti, rapina, furto e associazione per delinquere. L'episodio accende ancora una volta i riflettori su Scampia, dove è in atto da sempre una guerra tra gruppi di potere criminale contrapposti nella gestione degli affari illeciti nel quartiere. Dieci giorni fa, infatti, un altro omicidio costò la vita a Ciro Nocerino, pregiudicato 45enne con precedenti per associazione camorristica, armi e spaccio di droga. L'uomo era stato ritrovato in una pozza di sangue in via Monterosa, una parallela di via Ghisleri a due passi da Piazza della Libertà. Nocerino era stato vittima di un agguato teso di almeno due sicari che lo avevano crivellato di proiettili alla testa.